Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta ai quattro formaggi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Ingredienti sono una dose di pasta brisè o di pasta al vino, gorgonzola, mozzarella, fontina, parmigiano, uova, panna da cucina, sale, pepe, noce moscata e burro. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano. Lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Aggiungiamo il gorgonzola, la fontina e la mozzarella. Azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 8. Aggiungiamo le uova, la panna, la noce moscata, il sale, e il pepe. Azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4. Il composto è pronto, trasferiamolo sopra la pasta brisè che abbiamo precedentemente bucquerellato con i rebbi di una forchetta. Livelliamo bene, richiudiamo i bordi, mettiamo dei fiocchetti di burro, cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. La torta è cotta, lasciamo l'intiepidire prima di servire. Torta ai 4 formaggi. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.